Onorevi colleghi, questa mattina, poco dopo le 4, all'aeroporto di Ciampino, ho dato il bentornato a Greta Ramelli e a Vanessa Marzullo. Penso di averlo fatto, oltre che a nome del governo, a nome dell'Italia intera. I volti sofferenti di Greta e Vanessa all'arrivo a Ciampino hanno commosso l'Italia, ma qualche polemica molto dura nei confronti delle cooperanti italiane rapite in Siria si è sollevata forte all'interno della Lega Nord in merito al presunto riscatto pagato per la liberazione ed anche in Veneto le dichiarazioni di Luca Zaia non lasciano spazio a dubbi di interpretazione. Non ho ben capito cooperanti di cosa e per chi, però al di là di questo io dico semplicemente una cosa. Chi va a rischio e pericolo in quei paesi, peraltro non si è capito a fare cosa, perché da quel che si capisce dalla stampa non è ben chiaro, è bene che i costi siano carichi di queste signore, quindi si faccia una confisca vita finché andremo a cubare 12 milioni di euro, se è vero che si sono pagati 12 milioni di euro. Né più né meno di quello che facciamo noi con chi va sulla Marmolada, sulle Dolomiti, con le Havaianas, con l'Infradito, si paga l'elicottero se si perde. Non ti abbiamo mandato noi lì. Riferendo alla Camera sull'Accaduto, il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni spiega però come e perché le ragazze erano in Siria. Per effettuare un ulteriore sopralluogo si erano già recate in Siria in due precedenti occasioni per l'avvio del progetto sociosanitario denominato Horriati. Sottolineo che le due connazionali non hanno purtroppo mai informato le autorità italiane della loro intenzione di raggiungere la Siria né del loro avvenuto ingresso nel paese. Quanto al riscatto, finora viene smentito che sia stata pagata la cifra di 12 milioni di euro. Ho letto riferimenti e indiscrezioni privi di reale fondamento e in qualche caso addirittura veicolati da gruppi terroristici. E mi sorprende che a queste illazioni e a queste fonti sia stato dato da taluno credito senza alcuna verifica. Non è la prima volta infatti che due ragazze rapite vengono attaccate al loro rientro in Italia. È stato così anche per Simona Pari e Simona Torretta rapite in Iraq. Considero inaccettabile che in questo caso qualcuno si sia spinto a dire se la sono cercata magari perché si tratta di due giovani donne cooperanti. E aggiungo che accanto alla prudenza altre virtù non possono essere sottovalutate nel discorso pubblico. Parlo della generosità e del coraggio.